ultima corsa del convegno premio ventania un miglio per i tre anni sono in undici al via la prima fila per Vicky Lakshmi, Gennaro Casillo, Victor De Ronchi, Antonio Di Nardo, Vinicio Melchietano Di Nardo, Vincente Rudd, Paolo Pietro Paoli, Vidal Tav, Emanuele Matteini, Vagna D'Arronco, Lucio Becchetti, Vega Antonio Esposito 90, seconda fila per Veloci Raptor Fi, Davide Di Stefano, Electra Barra, Alessandro Gocciadoro, Val Bondione Luis, Mario Minopoli Junior, Vinci Dor, Sabato di Vincenzo. Cercano di emergere i cavalli al centro della prima fila, in particolare Vincente Rudd e Vidal Tav, che preme sull'avversario e passa in 150 metri, Vidal Tav leader, terza posizione per Victor De Ronchi, il lancio di Vidal Tav in 13 scarso, parziale di avvio davvero violento da parte di Vidal Tav, che però è dove voleva essere il favorito, che ha chiuso a 1,74 all'esterno, l'avanzata molto decisa di Vega, che suo malgrado è rimasta all'esterno e ora cerca magari di trovare posto, ma Vincente Rudd le impedisce la mossa, accenna a spostare dalla corda Victor De Ronchi per prendere la scia di Vega, mentre va via a gran ritmo, Vidal Tav, i 600 iniziali sono in 43 secco, Victor De Ronchi ha spostato e ha preso la scia di Vega e si ritrova molto all'esterno, Bagna del Ronco che però sta retrocedendo e allora terzo in corda ora è Vicky Laxmi con a largo Velociraptor Fee, poi ancora Vincidor con a largo Val Bondione Lewis, cerca ora di riprendere parzialmente Fiato Vidal Tav, ma appena sul retterino di fronte torna ad accelerare, il ritmo è sempre violento, 1,13 e 8, il primo chilometro di Vidal Tav, ma Vega con grande tenacia è al salchi del leader, avendo all'interno Vincente Rudd nella scia Victor De Ronchi, l'avanzata in terza ruota da parte di Electra Bar, lungo la corda c'è Vicky Laxmi, ora si ammucchiano un po' tutti con Vidal Tav, Vega, poi Victor De Ronchi, Electra Bar a ventaglio, paletto di 200 finali con Vidal Tav che deve fronteggiare la minaccia di Victor De Ronchi ed Electra Bar che a largo di tutti finisce forte anche Velociraptor Fee, sta cedendo Vidal Tav sotto l'attacco di Electra Bar che passa nei confronti di Victor De Ronchi, finisce forte Velociraptor Fee, vince Electra Bar nei confronti di Victor De Ronchi con Velociraptor Fee al terzo posto, finale con minor slancio ma comunque 1.57.7 davvero un altro ragguaglio abbastanza clamoroso nell'ordine dell'1.13.6 per Electra Bar e Alessandro Cocciadoro al triplo in giornata con la figlia di Sam Bourbon numero 9 davanti al 2 di Victor De Ronchi per il terzo emerge Velociraptor Fee davanti a Vicky Laxmi 9.28 l'arrivo ufficioso della nona e ultima corsa dall'ippadromo delle Capannelle. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!